Che devo dire? Quello che devo dire l'ha già detto il professor Maciocco Si può solo puntualizzare alcune cose La sanità di iniziativa per noi è stata un'esperienza meravigliosa Ma anche solo il fatto che il paziente si senta chiamato e non che capita l'ambulatorio per caso Già di per sé è un fattore ultra positivo Perché sicuramente seguirà più dopo le raccomandazioni del medico Secondo me però le cose adesso non vanno male solo perché sono state tolte la sanità di iniziativa Ma va male perché il medico di famiglia è stato caricato di compiti che non sono i suoi Il mondo politico deve avere la forza di evitare questa voragine Io ieri ho fatto l'ambulatorio da l'una alle nove di sera L'ottanta per cento del mio tempo è stato sprecato in cose che potevano fare tutt'altre figure professionali Con una formazione zero Un po' se io fare tre moduli per l'incontinenza urinare i pannoloni Scusate, è vero che sono pochi minuti Moltiplicate per tre è già una fetta del mio tempo che va via È indegno, è indegno anche professionalmente Non posso fare 10.000 schede PUA di poco significato Quando ci hanno già tutto con l'allegato 1 dell'Adil e dell'ADP Non possono chiedermi tutti questi carichi burocratici che non hanno nessuna importanza Il medico di famiglia deve fare di più Il mondo politico deve pretendere dal medico di famiglia di più Perché può fare di più? Io devo gestire delle malattie Non devo gestire delle cose che non hanno nessun significato dal punto di vista sanitario o poco Devo riprendermi carico di tutte quelle patologie croniche che sono nostre Che sono state delegate con il tempo ad altri medici Che possono fare ancora di più e da cui si può pretendere di più Il diabete, dei 130-140 persone che ho io col diabete Perché la media, come sapete, la prevalenza va intorno ormai al 10% La maggior parte sono gestibili dal medico di famiglia L'indicatore visita diabetologica è un indicatore che non ha nessun senso Perché se il medico di famiglia fa il suo mestiere bene Le visite sono di meno, non sono di più Penso Non posso io gestire patologie croniche come la tiroidite di Hashimoto O delegarla a uno specialista del dottrinologo Ma dico, ma piangiamo Sono cose che può fare il medico di famiglia Sì o no? E noi dobbiamo pretendere E il mondo politico deve pretendere Dal medico di famiglia che gestisca di queste cose Ma ci deve togliere tutta quell'altra parte burocratica Tutte quelle altre stupiraggi Ragazzi, ma abbiamo sempre dei pacchetti di farmaci per il cronico con 14 comprese Antipertensivi che ci sono 14 comprese Ragazzi, ma siamo nel mondo di handicappati Solo prevedere che possa esserci una cosa di questo genere O no? La sanità di iniziativa va ripristinata I medici di famiglia vanno dati infermiere Le case della comunità, come spero che la mia faccia da modello E io ci credo, ci ho sempre messo l'impegno Deve funzionare perché c'ha del personale C'ha delle persone dedicate C'è da prevedere a zona distretto che ci sia un informatico che serva ai medici di famiglia Il Dipartimento della Medicina Generale Deve chiedere di più ai medici E deve chiedere di più al mondo politico Deve riappropriarsi di cose che sono sue Benissimo quello che fa Paolo Francesconi Ma fa delle cose che dovremmo fare noi in parte Deve dirmi lui come va Come va nei miei medici Giusto che guardi e mi analizzi Mi dica, mi dia un consiglio Ma deve essere anche il Dipartimento di Medicina Generale Che deve essere in grado di dare questi dati O no? E io ho finito qua perché se no si va alle lunghe Grazie mille, grazie mille Giuseppe Dalla dottoressa Carla Campolmi Un'infermiera sud-est Responsabile dei progetti innovativi Buongiorno a tutti Allora ringrazio innanzitutto Perché questo evento Ha portato numerose riflessioni personalmente Ringrazio il professor Maciocco Perché effettivamente quella parte di passato L'ho vissuta E si vedevano effettivamente delle differenze Quello che credo io è che Ho due parole chiave La multiprofessionalità Che è un valore per gli assistiti Per chi prendiamo in cura E la personalizzazione Perché dobbiamo pensare che Si sta partendo da situazioni Veramente difformi Studi associati Cassa della salute Tra un po' le case di comunità Ambulatori ancora singoli in alcune aree Perché per esempio In sud-est abbiamo una densità abitativa bassissima E abbiamo il paesino Ma come penso ci siano in tutte le realtà Quindi la prossimità è un valore per l'assistito Come vogliamo pensare di risolvere Alcune situazioni Perché le case della comunità Lavoreranno in multiprofessionalità Ma non saranno in prossimità di suttili assistiti Sarà un problema da risolvere Come raggiungiamo situazioni di fragilità croniche Dobbiamo metterci veramente a tavolino Io condivido quello che aveva detto il dottore Perché alcune professionalità possono essere a supporto Un infermiere valuta il rischio delle lesioni Potrebbe Attualmente Indichiamo al medico Guardi è a rischio C'è già una lesione Occorre il materassino È incontinente Dovete farvi fare la richiesta Quindi se io valuto direttamente Forse un futuro Potrò fare una richiesta Dove si può mettere E sgravare i medici Da certe situazioni Lo ipotizzo Perché l'infermiere di famiglia e comunità Ha un lavoro in prossimità degli assistiti Vi porto queste riflessioni Perché secondo me sono un vantaggio Per chi poi dobbiamo raggiungere Ripeto che la personalizzazione delle cure L'ho vista Perché se io ho vari soggetti Con patologia cronica Non li posso gestire tutti nella stessa maniera Chi è in età lavorativa Ha delle esigenze Chi non è in età lavorativa Ha più tempo a disposizione Può venire quando Glielo dico io Può fare le indagini diagnostiche Quando glielo dico io Chi lavora ha un'esigenza di Sì ok Voglio fare la Devo fare la visita Devo fare l'indagine di diagnostica La voglio fare tutto nel stesso giorno E che poi si scontra Con le difficoltà delle prenotazioni Quindi poi Un infermiere deve valutare l'aderenza Ho visto con piacere Che c'erano PDTA sulle malattie croniche E che andremo in qualche maniera A cominciare a mettere Dei piccoli indicatori Che servono per l'aderenza Alla terapia farmacologica L'aderenza al percorso Cioè Al fatto che la persona Effettivamente Faccia le indagini E quant'altro Nelle realtà più virtuose Io ho visto uscire Dalla sanità di iniziativa L'assistito direttamente Con la prenotazione E la richiesta in mano Noi dobbiamo Dobbiamo valorizzare Queste parti Più Come si può dire Che portano Dei reali vantaggi E quindi Creare agende dedicate Mandare Essere noi a programmare Sulla base delle esigenze Delle persone Tutte le indagini E agevolarli Perché la presa in cura È una presa in cura E come tale Non posso poi Rimandare L'assistito E dire Ora vai a cercarti La prestazione Dove ritiene opportuno Nel privato Nel pubblico Il contatto Se c'è una presa in cura Lo deve essere Al cento per cento Grazie Dottoressa Dottoressa Calabrese Diabetologa Buongiorno a tutti Mi collego subito All'ultima cosa Che ha detto La parte infermieristica Quindi Chi fa parte del team Lo sapete Che ora in Toscana Le prenotazioni Possono essere fatte Dal cittadino E quant'altro Le nostre liste dedicate Sono ora Piene Di prenotazioni Che non sono adeguate A quelle liste E quindi Sta saltando Tutta l'organizzazione Delle strutture In cui avevamo Le liste dedicate Alla gravidanza Cioè noi ci troviamo Gli uomini in gravidanza E diciamo Che sta succedendo Che cosa è successo Perché all'inizio Noi non sapevamo Che stava capitando Questa Novità Nelle prenotazioni Ci ritroviamo Le prime visite Nell'ambulatorio Del piede Nell'ambulatorio Delle tecnologie Quindi sta saltando Tutta l'organizzazione Sono d'accordo Che l'esperienza Del passato La dobbiamo mantenere La dobbiamo rivedere Ma proprio con le sfide Che noi ci troviamo Ora a dover affrontare Per il futuro Noi potremmo Inserire Quello che abbiamo fatto E che era Veramente notevole In quello che potremmo fare Quindi Case di comunità Perfetto Non tutti gli specialisti Sono in numero adeguato Per potersi muovere Dalla struttura ospedaliera O anche Territoriale Per andare Nella casa di comunità Io credo Che una cosa importante Impattante Possa essere O la televisita O il teleconsulto Sono due cose Completamente diverse Secondo me Dovremmo aprire Nelle case di comunità Come si diceva L'informatico Che supporta Perché il paziente Si deve muovere Anche per andare Nella casa di comunità Questo paziente Non lo dobbiamo far muovere Siamo noi Che ci dobbiamo mettere In una situazione tale Ad andare In casa del paziente Ma anche Da remoto Oppure Qualcuno Che Il paziente Non sempre Può essere Autonomo Anche perché L'età Abbiamo visto Sta avanzando Le malattie croniche Stanno aumentando Se ce n'è una Di malattia cronica Siamo fortunati Altrimenti Sono comorbidi Quindi abbiamo Veramente Delle difficoltà E poi Secondo il mio parere Nella casa di comunità Proprio per Riuscire a superare Quel gap In cui ci troviamo In questo momento Perché L'importante È fare prevenzione Oltre all'infermiere Devono essere presenti I dietisti Devono essere presenti I podologi Devono essere presenti Tutti quei Quegli operatori Sanitari Che prevengono Che permettono La prevenzione Del Manifestarsi Di una patologia O del peggioramento Di una complicanza Se è già presente Un'ultima cosa Si parlava Prima di spesa Secondo me La spesa Quello che diceva La collega La spesa Che abbiamo Evidenziato Essere ridotta Non credo Che sia ridotta Si dovrebbe Si dovranno fare Delle Delle Degli aggiustamenti Probabilmente Ma Se noi Riuscissimo a fare Queste visite Queste televisite Quindi la telemedicina Più Impattante Se Così Evitiamo I trasporti Utilizzare I farmaci innovativi Che ormai Innovativi Non sono Perché sono 15 anni Che abbiamo A disposizione I farmaci Io parlo Per il diabete Che riducono Le ipoglicemie Quindi Gli eventuali Ricoveri ospedalieri Le cadute E quant'altro È logico Che noi agiamo Sulla spesa Anche se Utilizziamo Farmaci Più costosi Grazie Dottoresa Calabrese Liliana Ti chiedo Di essere Telegrafica Ma è difficile Do devi Do devi S Allora Approfitto Perché Qua abbiamo Un bisogno Di interlocutori Politici Intanto Una buona notizia Noi nella provincia Di Siena Non solo In Colle Valdezza Siamo intorno All'ottanta All'ottantacinque Per cento Di sanità Di iniziativa Colle Valdezza Sfiora Al novantacinque Per cento Quello che volevo dire Il problema Riprendo quello Che ha detto Dottor Maciocco Sul perché Affondata Secondo me Si sono spaventati Perché all'inizio I politici Perché all'inizio C'è stato un incremento Di spesa È chiaro Quando tu prendi In carico I pazienti E cominci a studiarli E questo ha spaventato Secondo me Questa è stata La motivazione principale Che ha spaventato I politici E piano 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 Ha detto Ma qua che ci esplode In mano Allora Inviderei i politici Ad essere un po' Più lungimiranti I dati di salute Gli esi di salute Se non si curano I diabetici Adesso E non si sposta Quello che succedeva Prima sulla prevenzione E sull'emersione Di una patologia Che è sempre sotto Diagnosticata Sappiamo bene Che ogni diagnosi Di diabete Ne nasconde una Forse due Non diagnosticate Voi fra vent'anni Mi rivolgo ai politici Vi ritroverete Una popolazione Talmente ammalata Talmente in certe condizioni Che altro Che i soldi Che spendete adesso Per cui bisogna Fare una programmazione Che tenga conto Di esiti Di salute Non a brevissimo tempo Bisogna dare del tempo E formare E mi rivolgo Anche alla dottoressa Che viene dal Lazio E sono molto contenta Perché siamo Della stessa origine Di Roma E anche se non ne frega Niente a nessuno Però lo dico lo stesso E quello che volevo dire Il rapporto Che lei ha stabilito Col distretto È fondamentale Per noi medici Di famiglia Noi con i medici Del distretto Gli infermieri Del distretto Abbiamo un ottimo rapporto E questo è fondamentale E quel Diciamo Discorso di feedback Formativo Secondo me Noi abbiamo un'esperienza Un pochino diversa Nella provincia di Siena Noi l'audit Ce lo facciamo da soli Cioè noi la formazione L'abbiamo gestita da soli Non c'è stata Diciamo in qualche modo Indirizzata Imposta L'abbiamo vissuta Come un'esigenza Perché se uno parte Con la sanità D'iniziativa Ha bisogno Di formazione Ne sente la necessità Quindi il compito Dei coordinatori Nella nostro territorio È stato quello Di intercettare Questo bisogno Di formazione E fare una formazione Proprio a misura Del medico di famiglia Benissimo Gli esperti Però noi abbiamo bisogno Di una formazione Forse un pochino Differente E ricordo anche Che forse andrà Modificata la legge Che prevede Che almeno una volta Almeno una volta I primi dodici mesi Di presa in carico Del paziente diabetico Va inviato A un centro antidiabetico È una cosa antistorica Non è possibile farlo La legge viene disattesa Prendiamone atto E diciamo Che i pazienti Che non hanno complicazioni Possono essere benissimo Gestiti dal medico Di famiglia Anche per i due o tre anni Che l'intervento Dello specialista Avviene soltanto In una Diciamo In un secondo Addirittura Un terzo livello Io sono convinta Che i medici Formati I medici di famiglia Formati Possono gestire Anche Situazioni di secondo livello Con estrema sicurezza Scusate Grazie Grazie mille Grazie Riviera Dottor Luca Puccetti Lo conoscete Il coordinatore Corso di formazione Medicina generale Grazie Allora grazie Paolo Tantissimi spunti Ovviamente Con cui sono Molto d'accordo Allora Io vorrei dire Che prima di tutto Gli organismi Internazionali Come l'Ocse Di fatto Certificano Che l'Italia Ancora Nonostante tutto Uno dei paesi Dove c'è La sanità Che fornisce Determinanti di salute Migliori al mondo Questo non ce lo dobbiamo Mai dimenticare Abbiamo la terza Mortalità Evitabile al mondo La terza Abbiamo un numero Di posti letto Molto inferiore A quelli della media Ocse Quindi questo vuol dire Che nonostante Tutte le criticità Che sono state evidenziate Il territorio Funziona Perché altrimenti Non c'è altra spiegazione È molto semplice Quindi Cominciamo A ragionare Sui dati Che abbiamo E cominciamo Quindi a essere Anche orgogliosi Di quello che facciamo Il che non vuol dire Che ci dobbiamo Sedere sugli allori Ma ovviamente Dobbiamo cercare Di andare avanti Soprattutto Perché L'unico modo Che noi ce la possiamo fare Vista la tendenza demografica Che è veramente Allarmante Perché nel 2050 Ci sarà Un pensionato Per ogni persona In attività E che la vita media Ci sarà Un aumento Di allungamento Ancora Di molti anni Addirittura 3-4-5 Da qui A 25-30 anni Capite bene Che il problema Della sostenibilità Per un paese Che spende Il 16% Del PIL In pensioni Il 16% Perché Vedete Scusatemi Io sono sempre Molto d'accordo Quando si dice Bisogna fare di più Bisogna Io dico Come Perché non è che Le risorse Stanno sugli alberi E non è che I politici Sono delle Persone con le Bacchette magiche Devono fare Delle scelte E le scelte Sono che O si aumenta La torta Ma siamo in grado Di aumentarla Con il tipo Di natalità Che abbiamo Avete visto Quali sono Le pubblicità Le dentiere I montascale I pannoloni Quando ero piccolo Io Erano i pannolini Ora invece La pubblicità È quella Dei pannoloni Capite bene Che quindi Tutto è resettato Su questa Dimensione Economica E se noi Non ne prendiamo Consapevolezza Noi non ne usciamo E l'unico modo Di fare Di farcela È quello Di unire le forze Non c'è Altro sistema Se continuiamo A ragionare A compartimenti Stagni E mi permettete Che anche Le valutazioni Non possono essere Fatte a comportamenti Stagni Il professor Maciocco Ci ha fatto vedere Ma era logico Che la spesa Una volta Che te Fai la sanità D'iniziativa Per i farmaci Per forza Aumenta Però diminuisce Poi dopo Ovviamente La mortalità Quindi Non possiamo Fare le analisi A compartimenti Stagni Ok Sei stato bravo È diminuito La spesa Farmaceutica Quando poi Dopo magari C'è un peggioramento Della mortalità Quindi dobbiamo Anche ragionare In una logica Di valutazione Un pochino Diverse Non solo Di silos Perché noi Abbiamo la tendenza A ragionare Al silos Sono state Sono state state dette Tantissime cose Io personalmente Credo più che nella televisita Che francamente Ci credo poco Perché più che la televisita Serve la tele care Serve un osce Un personaggio Che chiama una signora anziana E dice Ok oggi hai preso i farmaci Ti vedo un po' peggio Come mai Hai mangiato E sei andata in bagno Cose di questo genere Cose che in Inghilterra Hanno dimostrato Fanno la differenza Invece credo tantissimo Nel teleconsulto Veramente tantissimo Però lì si parla Poi di modelli organizzativi Perché come si fa Il teleconsulto Voi ovviamente Lo fate Nel vostro orario di lavoro Per noi Il teleconsulto È un lavoro in più Quindi noi dobbiamo Ovviamente Dedicare del tempo Al teleconsulto E questo va Ne va tenuto conto Vi do un dato 2014-2022 Ho fatto 70 medici veneti Molto bravi Che stanno raccogliendo I dati In un modo assolutamente Molto molto approfondito Abbiamo analizzato Quanti sono gli accessi medi Uno per l'altro Visite Telefonate Tutto quello che volete Giornalieri Siamo passati Da 2014-57 accessi A 80 accessi Nel 2024 Burocratizzazione L'ha già detto Ma anche aumento reale Di quelli che sono È la nostra Diciamo Richiesta di salute Perché? Perché ci abbiamo Il problema Della cronicizzazione Dell'invecchiamento Che inevitabilmente Aumentano i bisogni Quindi modelli organizzativi Case della salute Io non credo Assolutamente Al modello unico Nella maniera più assoluta Al modello unico Destinato al fallimento Quello che va bene È andare a realizzare La migliore soluzione Possibile In quella realtà Ci sono realtà Dove va bene Il modello Dell'amico Cavirani Ci sono realtà Io vengo Dall'esperienza Scusate Tiro l'acqua Al mio mulino Nella rosa Che c'è un altro modello E che funziona Molto bene Anche quello Quindi Io credo Che non ci dobbiamo Fossilizzare Sul modello unico Va bene Il modello Dove c'è la migliore Possibilità Di unire tutte le forze E farle lavorare Al meglio Questo è un po' Il concetto Formazione Formazione In questi ultimi anni Abbiamo avuto Tantissimi problemi Leggi Che si sono Sovrapposte Che hanno Eh diciamo Aperto La strada La formazione A diciamo Figure professionali Che prima Ne erano Diciamo Escluse Decreto Calabria Tanto per Non far nomi E cognomi Che ovviamente Ha creato Dei problemi E ovviamente L'esigenza Durante il covid Di avere E unitamente Allo tsunami Che poi è stato Anche peggiorato Dal covid Del pensionamento Perché noi sappiamo Che c'è la curva No? Del baby boom Sta passando E siamo ancora Nel pieno Diciamo Della Dell'ACME Queste due cose Hanno generato L'immissione Di un numero Considerevole Di colleghi Giovani O comunque Con esperienza Limitata Immediatamente Sul lavoro Senza avere La benché Minima Consapevolezza Come diceva Il direttore Nemmeno Dell'architettura Di come funziona Quindi queste persone Sono state messe Con mille E addirittura Qualcuno Con mille E cinquecenti Assistiti Dopo poche Settimane Dalla laurea Questo veramente Ha costituito Un grossissimo Problema Persone Che si sono dovute Colleghi Sono dovuti Fronteggiare A casi Molto complessi Perché noi Non abbiamo Lo scompenso Abbiamo lo scompenso Con la fibrillazione Con il diabete E con l'insufficienza Renale Quindi Non è che c'è Il paziente Con lo scompenso Quindi c'è Un'analisi Ovviamente E una presa Di bisogno Un carico Olistica Problema Della Finisco Grazie del tempo E della pazienza Problema Della Personalizzazione Sartoralizzazione Della cura Perché noi Non possiamo Pensare Che tutte Le patologie Sono d'accordo Con te Che una gran parte Come per esempio Diciamo Gran parte Della patologia Diabetica Possa essere gestita In prima persona Però Come vedete L'avanzamento Delle conoscenze E anche La disponibilità Di farmaci Chiamiamoli Mirati Rende Rende Ovviamente Sempre più Importante Andare A dare La cura Giusta Al paziente Giusto E francamente Non sempre È possibile Per noi E avere Quella mole Di conoscenza E di esperienza Per poterlo fare Pensiamo A cosa è successo Per le patologie oncologiche È veramente Una rivoluzione No? Voglio dire Quindi Cosa voglio dire C'è bisogno Delle competenze Specifiche Specialistiche In che modo Bisogna Fluire Anche Della Come ha detto La collega Del teleconsulto Laddove è possibile Quando un paziente Ha fatto una Tavi Ma è inutile A meno che Non ci sia Una complicanza Che venga Riferito Al centro Di terzo livello Per fare La vigina Di controllo Per fare L'ecocardio Però c'è un però Noi dobbiamo Smetterla Di valutare Anche Chi fa La periferia E lo dico All'amico Federico Solo sulla base Del fatto Che abbia Le finestre Al punto giusto Il pavimento Al punto giusto E così via Noi dobbiamo Valutare Anche la qualità Delle prestazioni Che questi soggetti Erogano Perché fanno parte Del circuito pubblico E se io Mi accorgo Che queste persone Fanno Un ragionamento Di tipo Esclusivamente Prestazionale Per cui Riva un paziente Con una viglia cardiologica Quelli sentono Un soffio E non li mettono Nemmeno Una fonda Per vedere Come sta Quella diventa Un prestazionificio Un prestazionificio Che aumenta A dismisura Quelli che sono I costi Spesso anche Con autoinduzione E questo è un altro Problema Ce lo dobbiamo Poi Ilonia Lavorare Insieme Grazie Funziona Sì Io vedo L'argomento Molto interessante Perché Lo posso affrontare Su due aspetti Il primo Come Direttore Di un pronto soccorso Di terzo livello E quindi Capire un attimo Quella che sono Le esigenze Dei cittadini L'altro È Quello che Invece Dal punto di vista Di coordinamento Lavorando Dal punto di vista Tecnico Con La parte Più politica Quello che Poteva essere Fatto Sulla Proprio Cronicità Ricordo Che in effetti La cronicità Non è Soltanto Il diabete Lo scompenso È altro Ma c'è Come sapete tutti La parte Vascolare O cardiovascolare La parte Post-tictale La parte Delle insufficienze Renali Croniche La parte Delle malattie Ematologiche Eccetera Eccetera Fino ad arrivare A questa situazione Abbiamo già detto Della parte Tumorale Allora Cosa posso dirvi Da una parte E cosa posso dirvi Dall'altra Dalla parte Del medico Che opera A livello Di un pronto Soccorso Di terzo livello Vi dico Che Noi abbiamo Ancora Nonostante Tutte le attenzioni Che abbiamo posto All'organizzazione Un aumento Costante E Molto Importante Delle prestazioni Richieste Cioè Siamo arrivati Da duecento Tipo prestazioni Per esempio Questo per quanto riguarda Careggi Al giorno A trecentosettanta Al giorno Quindi fate un po' Il conto Di queste prestazioni La Il sessanta per cento Settanta per cento Sono non Certificate Cioè Questi pazienti Arrivano In pronto Soccorso Senza Nessuna Certificazione Che vuol dire Che nessun medico Li ha visti Prima Di arrivare Al pronto Soccorso La maggioranza Di queste persone Sono i cronici I cronici Ma con Tutta una serie Di Bisogni Ma che Dal cambio Del catetere Al cambio Di Tutta una serie Di cose Quindi Questo mi fa Fare Delle riflessioni E poi Concluderò Velocemente Dall'altra parte Quella che è la parte Invece Dell'organismo Tecnico Del governo Clinico Diciamo A fianco Del nostro Direttore generale La regione Ha portato avanti Tutta una serie Di ragionamenti Organizzativi Che vanno Dalla 532 Per quanto riguarda I fronti soccorsi Che entrano Nella 1508 Per quanto riguarda Tutta una serie Di azioni Tra le case Di comunità Ma anche Le cot 116 E 117 Ancora In applicazione Che penso Che siano Degli indirizzi Di applicazione E che ognuno All'interno Della propria realtà Deve Applicare Certo che È importante Come diceva Il collega Che in tutta Queste Problematica Perché la Funicità È veramente Una grande problematica Ci sia Una opportunità Vera Secondo me Che il medico Di medicina generale Sia il tutore Del percorso Del paziente Cioè Non può essere Che un paziente Si rivolga Al proprio medico Curante Il medico curante Dica Deve fare Una visita Cardiologica Deve fare Una visita Perché questo Significa Che i pazienti Si perdono Quindi Deve essere Organizzato Un percorso Di tutoraggio Del paziente Che è Un'innovazione Territoriale Perché oggi Invece Questi pazienti Si perdono Ci sono delle persone E non sanno Nemmeno Come fare A chiedere Una visita Cardiologica A fare Delle radiografie O altro Quindi in questo Forse c'è Da fare Un ragionamento L'ultima cosa E devo dire Poi C'è Il direttore Generale È che Ancora Quello che io Riesca a percepire È che in realtà Ci siano Dei narcisismi E degli egoismi All'interno Del sistema Che non ci permetteranno Se non si tolgono Di mezzo Di lavorare Bene C'è Il lavoro Deve essere Un lavoro Multidisciplinare Deve essere Un lavoro Che sia Coordinato Ci deve essere Degli scambi Ma oggi Ancora oggi L'ospedale Ha difficoltà A parlare Col territorio Il territorio Ha difficoltà A parlare Con l'ospedale Ci sono La possibilità Per esempio Noi Dall'ospedale Careggi Inviamo Le cartelle Dei pazienti All'area vasta Centro Però questo È solo da noi Il medico di base Non conosce Assolutamente Non sa nemmeno A volte Se il paziente Viene In ospedale Non lo sa Allora Sono d'accordo Con te Bisogna Lavorare Insieme Ma non è Una cosa Che si Che c'è Così Bisogna Lavorare Insieme Cioè Tutto ciò Che ha Prodotto La regione Lo ha Prodotto In fondo Perché si Lavori Insieme Le case Di comunità O i distretti O gli ospedali Di comunità Le continuità Assistenziali Sono un insieme Di funzioni Che vanno Coordinate Però Come sapete Ancora C'è che è perpresso Molti medici Di base Hanno la perplessità Di lavorare All'interno Delle case Della salute Quindi questa Multidisciplinarità Forse Per altri Per tanti motivi Che magari Leggevo Forse Sono il 35% Che vogliono Lavorare All'interno Delle case Di comunità Quindi Se non troviamo Una Organizzazione Integrata Sulla cronicità Ma soprattutto Nell'assistenza Del paziente Non possiamo Pensare Che le cose Andranno bene Ma non tanto Per l'organizzazione Sai L'organizzazione Io penso Ai cittadini I cittadini Devono essere E soprattutto Assistiti Soprattutto Noi facciamo Per le persone Fragili Per gli anziani Per le persone Fragili Gli anziani Che ancora una volta Secondo le leggi Che sono uscite Sono ulteriormente Penalizzati Dal punto di vista Economico Quindi il sistema È un sistema Che deve Tendere giustizia A queste persone Gli individualismi Dovranno Uscire Dall'organizzazione Dovremo Lavorare Tutti insieme Medici Che lavorano Sul territorio Medici Dell'ospedale Un'integrazione Vera Come anche Nei distretti E nelle case Della comunità Basta Grazie 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 Grazie